A volte ci si meraviglia di come riescano a oscillare il rendimento di alcuni giocatori da una regola season ai play-off. È solo una questione mentale di pressione o c'è qualcos'altro che incide in questo? Non lo so, 82 partite sono tante. Aggiungiamo i play-off, 100 partite all'anno sono tante. Chiaro che c'è meno pressione dall'allenamento. Io, anche quando giocavo a Paracanese, mi ricordo che l'allenamento spesso era molto più duro, o meno la settimana dell'allenamento era più dura della partita in sé. Nell'NBA vivi in aeroplano, in albergo e giochi 3-4 volte alla settimana. Con anche dei trasferimenti molto lunghi. Esatto, quindi magari giochi, devi per forza viaggiare il giorno prima della partita, quindi giochi magari due partite in due giorni, finisci la partita alle 11, prendi l'aereo, stai in aereo tre ore, arrivi nella città nuova, ti riposi la mattina, già salta la seduta di tiro, magari mangi, poi c'è già una partita nuova, quindi non puoi neanche soffermarti tanto. In questo senso forse il discorso delle serie di play-off aiuta, lasciando un po' più tempo tra una partita e un'altra, meno trasferimenti? Secondo me per una matricola, prendiamo il caso di una matricola, adeguarsi alla vita NBA è veramente difficile. Io mi ricordo quando parlai con Bellinelli, prima che andasse a Golden State, e ti dissi, attenti che questa qui è una vita a due, i primi tre o quattro mesi sono tutti divertenti, arrivi verso gennaio e già potresti avere un crollo fisico. Fiamo il rookie wall. Sì, you hit the wall, colpisci il muro, vai a sbattere contro il muro, e questo succede secondo me anche agli americani che vengono in Europa, perché comunque gli americani sono abituati a giocare molte partite, vengono qua, si allenano tutti i giorni, magari anche due volte, e poi giocano una partita. Troppo allenamento, poco agonismo. Esatto, ci vorrebbe un po' nei via di mezzo, però quel wall lo può incontrare qualsiasi giocatore da qualsiasi parte del mondo. Mi viene in mente Griffin, Blake Griffin, per adesso diciamo che di muri non ne ha visti molti quest'anno. Non ne ha visti molti, anche se la squadra all'inizio ha faticato molto, poi secondo me quando hanno capito magari che potevano correre un po' di più, lasciare un po' più fantasia a qualcuno, e hanno trovato un po' di vittorie, perché negli ultimi due mesi comunque siamo vicini al 50% di vittorie. Lui sicuramente sta giocando bene, è un ragazzo molto molto maturo, non è uno che è andato al college per un anno e basta, quindi in più sono convinto che un anno di infortunio, dove puoi osservare da vicino il mondo in via, l'ha aiutato molto. È molto molto maturo lui come ragazzo, viene da un'ottima famiglia, un grande concentrato, però a livello tecnico siccome deve migliorare molto, ma secondo me lui è talmente intelligente che sa anche lui che dovrà lavorare in estate. Sembra, vedendo così da un'intervista o meno, uno molto dedito al lavoro, uno che si applica molto. Però bisogna vedere chi lo segue, perché a questo ha il 16 di aprile la sua stagione finita, e rinizierà, non sappiamo quando, potrebbe riniziare anche il primo di dicembre, il primo di gennaio se c'è un lockout, quindi questo rischia di stare fermo per 7-8 mesi, ecco bisogna vedere cosa fa in questo periodo per migliorare almeno sul tiro, su mettere giù la palla, tanti piccoli difettucci tecnici che ha, per adesso lui è un giocatore più spalle a canestro di post e di atletismo che tecnico, lui deve trovare un po' una regolarità, un equilibrio. Vedi dei limiti nello sviluppo di questo giocatore o ti sembra un tipo di giocatore che passa una volta ogni tanto? Ma sicuramente, guarda, è un ottimo ottimo prospetto, però non so se sarà un fenomeno, un fenomeno vuol dire il livello dei primi dieci giocatori dell'NBA, cioè i Kobe, le Bronco, questi giocatori qui, secondo me lui è piccolo, gioca chiaramente come se fosse 2-8. Si parlava molto di questo fatto prima che arrivassi in NBA, ma è talmente esplosivo, è talmente esplosivo, è talmente veloce, è talmente forte fisicamente, che alla fine mi ricorda, è un Karl Malone più atletico, un po' meno tecnico, però Karl Malone quando è arrivato nell'NBA non era tecnico, era solo esplosivo, ma la metà di Blake Griffin, quindi se lui save un po' il percorso di Karl Malone a livello tecnico, che primo anno ha tirato il 48% dei tiri liberi di Karl Malone, il Blake è già un po' meglio, però secondo me se lui usa Karl Malone come suo modello, questo potrebbe essere positivo. Ho sentito qualcuno fare degli accostamenti con Charles Barkley, il quale Charles Barkley, interpellato in materia, ha detto non scherziamo perché questo è molto più forte fisicamente di me. Beh, Charles Barkley poi, se uno l'ha visto da vicino, cioè questo è un giocatore di 1,93-1,94 che giocava sotto canestro, quindi era più esplosivo, però non lo so, secondo me è un paragone difficile, vedo più quello con Karl Malone che da 4 puro, 4 puro che sapeva anche giocare faccia canestro. Lavorando per la franchigia più vincente della storia come i Los Angeles Lakers, ti capiterà sempre di avere giocatori convocati all'All-Star Game, tra quelli con cui ti ritrovi a lavorare. Quanto è importante questo per un giocatore NBA essere convocato per l'All-Star Game? Mi viene in mente Rashid Wallace che per esempio minacciava prestazioni super contro chi l'avrebbe votato. È un caso isolato o ci sono altre stelle che cominciano a voler passare il tempo diversamente durante quel weekend, magari in famiglia, riposandosi un attimo? Beh, secondo me è sicuro, per un giocatore giovane penso che sia un sogno giocare all'All-Star Game. Cioè giochi è una soddisfazione personale, ma è una soddisfazione anche per la franchigia, è il segno, è la tua premiazione, solo una squadra può vincere il titolo. Ma 24 credo possono andare all'All-Star Game, quindi insomma questa è una cosa bella. Però ci sono giocatori tipo Shaquille O'Neal che ne ha fatti, non so, 15 di fila, che negli ultimi anni ha fatto di tutto. Negli ultimi 7-8 anni, se non di più, mi ricordo un anno, che non finse un infortunio, ma aveva un infortunio un po' piccolo e lui diceva non vuoi giocare all'All-Star Game. L'NBA ci chiamò, insomma lo dovevano mettere in lista di infortunati per 5 partite, per un bala al piede, insomma la verità era questo, non ne aveva olia. In questo senso, ripensando un po' agli All-Star Game passati, siccome è capitato l'anno scorso magari di rivedere partite vintage di All-Star Game a fine anni 80, a primi anni 90, non era un po' diverso l'approccio, diciamo, sotto il punto di vista della competizione? Penso ai tempi Dominic Wilkins, Michael Jordan, sembra che oggi sia diventato un po' più uno show, diciamo, un'esibizione. Ti confesso questo, cioè hai beccato un argomento di cui parlo spesso, per me è una pagliacciata pazzesca e non vedo All-Star Game dal 1992, da quando Magic Johnson tornò a giocare. Tipo nell'89 vidi forse il penultimo, per due anni, 90-91, era diventato un po' già uno show, non riuscivo a guardare la partita. Nel 1992 tornai a vederlo e fu bellissimo, dal momento che non si potrà mai più tornare a quel livello di partita, di competizione con Magic che tornò a giocare, cioè fu una festa incredibile, adesso non li guardo. Perché hai cambiato così tanto? Ma secondo me uno i giocatori non vogliono farsi male, è visto come una grande festa e se noti, io mi ricordo quando ci fu anche il Rookie Game qualche anno fa, chiamarono Jaric, che comunque conoscevamo bene da Bologna, che era un giocatore molto competitivo, già di scuola a Slava, e andò a sta grande festa, non riusciva a giocare, c'era tutti che tiravano degli alley-oop, già questo non era il suo gioco, passare dietro la schiena. Ho avuto una sensazione simile vedendo Scola nello stesso tipo di partita. Esatto, ma questo ma anche Marc Gasol, tutti quelli europei che non abituati. Specialmente quelli di Ari e FIBA. Sì, perché sei abituato a giocare per vincere, adesso sei lì per fare dei numeri. Allora, poi magari sei un gran giocatore, ma non sai fare dei numeri, non sai fare dello spettacolo. A me non piace vedere tutti quelli, ma anche le competizioni non mi piacciono più, la gara delle schiacciate non è più divertente. Era bello i primi anni, dovrebbero trovare qualcosa di nuovo. La gara di tre punti la trovo ancora almeno stimolante. Forse quella che è rimasta più simile al passato. Quella è l'unica cosa che è veramente ancora... Parlando di gara di schiacciate, mi viene anche da dire, una volta avevamo Dominic Wilkins, Michael Jordan... C'era anche una rivalità. Ecco, adesso perché non vediamo gente come Kobe o LeBron James? Ma una cosa che ho notato con i giocatori molto atletici, Shannon Brown per fare un esempio, ma anche Guillermo Diaz che giocava a Scamolini, che è un giocatore che ha allenato, loro gli vengono anche i complessi un po' di essere riconosciuti solo come grandi atleti. E vogliono far vedere di essere bravi anche a livello tecnico. Mi viene in mente Gerald Green. Ecco, ci sono tanti giocatori che vengono riconosciuti come schiacciatori e per tutta la vita solo schiacciatori. E questa non è una bella cosa per loro, che vengono a essere riconosciuti come giocatori totali, come giocatori tecnici evoluti. Kobe sicuramente uno di questi che secondo me non ha più voluto fare la gara delle schiacciate, ma anche LeBron e tanti altri. Ricordo che LeBron disse che avrebbe partecipato nello Star Game di Dallas, poi rimase nel vento la sua idea. Sì, la gara delle schiacciate poi a mio parere ci sono grandi schiacciatori da partita. Shannon Brown è pazzesco, schiacciarti in faccia, saltarti sopra e schiacciarti in faccia. Ne abbiamo vista una l'altra sera. Ne vediamo ormai tutte le settimane. In allenamento poi non ti dico. Però a livello di competizione, senza nessuno, ci sono giocatori che schiacciano molto meglio. In realtà le gare delle schiacciate l'anno scorso non è che ha fatto delle gare schiacciate creative. Nate Robinson durante una regular season ne farà quattro di schiacciate. Ma in una competizione così all'All Star Game sicuramente conta più la creatività. È un principio a mio avviso forse applicabile anche al discorso della gara del tiro da tre punti. Questo. Cioè è diverso avere un carrello con dei palloni, prendere e tirare. Assolutamente. Piuttosto che mi viene in mente ad esempio uno forse complessivamente il più grande tiratore nella storia dell'NBA, Steve Nash, se lo si guarda sotto... A livello statistico è il miglior tiratore della storia. Percentuali, liberi da tre punti dal campo, non ha mai avuto, diciamo... Una gara da tre punti è un altro sport. Perché già se sei un tiratore in sospensione perdi molto tempo e molta energia. Se salti così da terra, vuol dire, insomma, saranno almeno dieci secondi in più. E in più l'energia. Arrivi a metà del percorso e già sei stanco. Mi con una volta quando giocavo feci una gara da tre punti in un torneo. Ma tipo, non so, nella partita giocavamo e ne ho messo, lo so, 4-5 nella competizione, non so, non riuscivo a metterne uno. Perché poi ne sbagli uno, ti lasci un po'... diventi un po' psico-labile. Diventa diverso. Ci sono quei giocatori che saltano poco, che hanno un gran ritmo nel tiro, che riescono a tirare per mezz'ora senza stancarsi. Questi di solito sono giocatori che di solito fanno bene nella gara. Quest'anno però diciamo che abbiamo un roster non male per quello che riguarda il tiro da tre punti dello Star Game. Ricordami chi c'è. Pierce, Ray Allen, James Jones di Miami. Sì. Poi abbiamo anche Kevin Durant. Allora, Kevin Durant e Paul Pierce sono grandissimi tiratori tra punti. Dorel Wright, scusami. Ok. A parte Ray Allen e James Jones, tutti gli altri sono grandi tiratori da partire, secondo me. Anche di quantità. Cioè sbagliano, anche molto sbagliano. Però, insomma, fanno il tiro importante, fanno il canestro con la mano in faccia. Gli altri invece fanno sempre canestro. Cioè James Jones è uno con i piedi per terra che fa veramente sempre canestro, che può essere, può fare molto bene in questo tipo di competizione. Guarda che si guardi alla fine, mi allaccio un po' al discorso precedente, Kobe Bryant è un giocatore che ha il record di bombe in una partita, che aveva fatto i dodici. Però non è mai stato chiamato al gara di tiro da tre. E non farebbe neanche bene, perché non è un giocatore... Ecco, uno di quelli che magari paradossalmente può essere per lui più facile metterla da otto metri con una mano in faccia... Sì, allo scadere dei 24 secondi che fare un tiro dopo l'altro. Si annoia anche, secondo me. Un giusto per lui. Esatto, troppo facile. Play-off. Penso alla partita di domenica, terza sfida, Heat contro Celtics, terza vittoria a Boston. Un passivo del genere durante le gare di regular season, quanto può pesare in vista di una sfida semifinale piuttosto che finale di Eastern Conference? Allora, non lo so. Secondo me quelle squadre arriveranno alla fine se si incontreranno ai play-off come credo che potranno scambiarsi gli appunti e insomma i pre-game plan che cambierà poco. Si conoscerà una memoria e una squadra si basa su un certo tipo di gioco basato sui due creatori che sono Wade e Lebron e invece Boston è più sistema, un collettivo eccezionale e però loro devono arrivare sani, fisicamente sani. Questa è un po' la cosa che li differenzia. Parlando di questo discorso del mantenere la condizione fisica, stare lontano dagli infortuni, mi viene in mente, guardando un po' i record di quest'anno, nessuno al passo con gli Spurs per il momento portano avanti un regular season da record giocando un basket diverso rispetto al passato, più offensivo, ma mantenendo comunque degli standard difensivi. Possono essere considerati già da oggi la squadra da battere a ovest o i Lakers nei play-off tireranno fuori quello che sembra mancare ad oggi? Ti dico... Diciamo, tu dall'interno, anche in Italia abbiamo tanti tifosi dei Lakers, cioè bisogna preoccuparsi o pensi che possa essere una stagione come nella Houston del back-to-back dove magari una regular season modesta può darsi. in un play-off con un basso... Speriamo. ...con una testa di serie bassa. Ma ti dico la verità, in questo momento, secondo me, battere i Lakers, anche se è un momento un po' di crisi, battere i Lakers, ci sono solo due squadre che lo sanno fare. Questo vuol dire vincere, non una volta, ma vincere magari tre o quattro volte in una serie. Sono San Antonio e Boston, sono le uniche due squadre che sanno come si fa. Ma questo San Antonio l'ha sempre saputo fare, però magari, ecco, non erano abbastanza forti, però avevano magari la strategia e la mentalità per farla. Negli ultimi due, tre anni ha avuto troppi infortuni e stanno invecchiando. Quest'anno, mi dicevi tu, insomma, è la squadra che forse ha giocato meglio, anzi, sicuramente è la squadra che ha giocato meglio, nonostante che abbiano comunque non abbiano questo gran talento. E comunque Tim Duncan è notevolmente calato a livello di rendimento. È anche vero che però ha un minutaggio molto più basso rispetto al passato, questo in chiave play-off può... Ma loro hanno un allenatore che è incredibile sia come manager che come tattico. Lui, secondo me, sta facendo tutto questo apposta, dando molto spazio ai cambi, ci sono giocatori role players non fenomenali tipo Bonner, tipo Blair, Gary Neal, e la scoperta Gary Neal che per loro è stato veramente fondamentale nella rotazione dei piccoli. E però per me la chiave di tutti i giocatori chiave è per loro Ginobili. Ginobili, se è sano, loro sono una squadra. Ginobili, che sta al 50%, già influisce su quella squadra, sia in attacca che in difesa. Parlando, rilasciandosi al discorso dei Lakers, pensi che in questa stagione il fatto che debba essere come sembra l'ultima di Phil Jackson, questo abbia inciso qualcosa a livello di squadra? No, secondo me no. I giocatori in generale, secondo me, il giocatore classico è più egoista, penso poi a se stesso. Chiaro che sapere che Phil Jackson torna l'anno prossimo dovrebbe essere stimolante secondo me per un giocatore, almeno per chi è sotto contratto. Il lockout, il potenziale lockout forse influirà un po' sulla sua decisione. Io non ci credo ancora che lui per me se vinciamo forse è la volta che lascia. È la volta che lascia, però al stesso tempo è una persona alla fine calma, tranquilla, però è anche una persona che è molto competitiva. Lui questi record, queste cose qua, insomma, li ha già battuti tutti, però secondo me quando non... l'idea di non fare più parte di una squadra e di vincere, di essere comunque il centro d'attenzione secondo me è questo un po' è nella sua testa. Rimanendo sul tema playoff, l'anno scorso diciamo che la più grossa sorpresa probabilmente sono stati gli Oklahoma City Thunder. Quest'anno sono chiamati a confermare se non migliorare tutto quello di buono che si è visto l'anno scorso. Dove pensi che possa arrivare questa franchigia nel futuro prossimo e quanto merito va attribuito a un general manager come sempre che non per niente riallacciandosi al discorso degli Spurs di prima a scuola a scuola? Se viene da quello stampo. Guarda, hanno fatto un lavoro veramente incredibile però hanno avuto anche molta fortuna perché anche loro avrebbero scelto Greg Oden c'è poco da dire se avessero avuto la prima scelta. Non è stato così hanno scelto Kevin Durant che voglio dire tra vent'anni forse lo ricorderemo come ai livelli di Michael Jordan Magic Jones questi giocatori quindi avere un giocatore franchigia un giocatore franchigia che vuole rimanere lì gli basta giocare a palacanestro è già contento un compagno di squadra straordinario un competitor straordinario quindi questo già è metà del lavoro hai già un giocatore franchigia sembra un ragazzo veramente una persona molto umile umile l'antistar proprio esatto poi non ha distrazioni fuori dal campo non è un personaggio non è tutto tatuato sono tante piccole cose che ha di positivo è un ottimo interview parla benissimo è andato una buona famiglia tante buone cose però loro il loro genio dove è stato hanno speso pochissimo hanno io penso magari alle piccole prese passate inosservate come uno secondo me tra i migliori difensori assolutamente della lega tabo sefoloce sì che è un mio pupillo da sempre guarda è stato è stato il mio pupillo noi volevamo scegliere poi dopo è successo quello che è successo è nato il 13 ma noi lo seguivamo da un anno eravamo innamorati di lui e loro hanno tra l'altro lui se non sbaglio scelto da Philadelphia ma ha scambiato girato sì ci fa uno scambio di scelte credo all'ultimo momento com'è possibile che un giocatore del genere finisca praticamente gratis a Autocleoma è un giocatore che non insomma le sue statistiche sono abbastanza rilevanti non è un giocatore che non è un stats player io lo dico sempre che bisogna stare attenti a giocatori con good stats on a bad team buone statistiche su una squadra scarsa e c'è un terzo giocatore anche Mark Gasol è un altro che mi viene in mente che non ha statistiche eccezionali però per la sua squadra è il perno di quella squadra e secondo me nello scouting bisogna veramente sapere evaluate come si diceva dare meglio gli intangibles tante piccole cose chi ha la mentalità di giocare in grande squadra ma Sam Presti il grande lavoro che ha fatto il management di Oklahoma City è stato di prendere questo tipo di giocatore di scegliere molto bene al draft Ibaka Westbrook Green Durant ma il loro problema sarà tra un anno quando andranno tutti in scadenza quindi il padrone adesso ha un salary cap di un certo tipo adesso tra 12 mesi 24 mesi si raddoppierà quindi dovrà prendersi delle responsabilità lì chi rifirmare chi non rifirmare non potranno rifirmare c'è stata una manovra un po' strana a livello contrattuale ho visto per quello che riguarda Nick Collison praticamente gli è stato fatto un contratto con un ingaggio altissimo per questa stagione mi sembra siamo attorno ai 12 milioni e poi scende a 3-4 per le prossime sinceramente guarda non mi ricordo forse diciamo un ragionamento fatto in ottica appunto di queste scadenze che ci saranno può darsi lì si saranno dovuti mettere d'accordo lì si saranno dovuti mettere d'accordo Nick è un giocatore un role player non è un fenomeno però un ottimo influenza nello spoglatoio un buonissimo cambio sicuramente li avranno avuto fatto capire non so vogliamo darti tot soldi però ti li debbiamo dare in questa maniera in modo da poi avere abbastato soldi per rifirmare i tuoi compagni e rimanere una squadra di lei diciamo che comunque il collettivo come squadra mi sembra probabilmente al di là della giovane età di quasi tutti i giocatori probabilmente forse la squadra più atletica e più lunga non parlo proprio in termini di altezza ma anche proprio come wingspan per quanto riguarda i giocatori importantissimo guarda tra Durant i bacca questi giocatori qua ma Russell Westbrook ha le braccia come uno di due metri e passa ed è solo 1,90 neanche quindi sono atletici lunghi giovani io credo che quando c'è il free agency di base si chiede a un giocatore qualsiasi vuole andare a Oklahoma City tutti dicono di no adesso loro sono riusciti formando questa società nuova questa squadra nuova a mettere entusiasmo secondo me oggi giorno i giocatori top players i top free agent considereranno anche Oklahoma City oltre che New York Miami Los Angeles quindi secondo me loro veramente hanno costruito una mentalità vincente ma anche un mercato buono per la città riallacciandomi a questo discorso qui quanto incide nelle scelte a livello di free agency per un giocatore NBA al di là dell'aspetto tecnico tattico di squadra la location vera e propria tantissimo 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 ed è brutto dirlo è brutto dirlo che secondo me è sbagliato che un giocatore adesso c'è il caso Carmelo Entri che un giocatore richieda un trade per me è umano ma che dica anche dove vuole andare questo è scandaloso questo mi ricordo va un po' contro le regole dell'NBA che sono contro le regole dell'NBA ma anche andò da Pitino e disse io voglio andare a Orlando o Orlando o Los Angeles o Dallas o Miami e Pitino gli rispose non siamo mica un'agenzia di turismo lo siamo ecco questo un po' riassume la mentalità dei giocatori voglio andare nelle città belle poi ci sono anche tante buonissime città che non sono al caldo per quelli di Chicago San Francisco tante belle città ci sono per dire ma sai quando hai la famiglia i bambini vuoi essere sicuro che sei comunque tutte le città hanno al fine un quartiere buono tutte le città del mondo penso però chiaro che voglio dire se ti dicono andiamo a vivere a Memphis la vedi in una certa maniera andiamo a vivere a San Francisco la vedi in un'altra in questo senso pensi che abbia inciso molto questo fatto sulla decisione di Lebron James o è stato solo un fatto di voglio giocare con due nuove e tre scosci ha influito un 50% un 50% nonostante sia un nativo di Cleveland nativo di Cleveland siccome lui non sarebbe mai rimasto lì o sarebbe andato a New York o sarebbe andato a Chicago o sarebbe andato giù a Miami a fare la bella vita sicuramente Miami a livello cestistico non è il 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 top si anche perché quando guardo le partite dei Miami la gente arriva a metà del terzo quarto si imbarca con lo yacht e parcheggia lo yacht lì sul porto e non c'è l'energy solution center non c'è cultura non c'è cultura sportiva a Miami è un altro tipo di città adesso c'è un po' di innamoramento del basket ma io ci vivo in estate voglio dire lì è il posto peggiorno per fare dei camp tutti i giocatori che vanno giù in vacanza non hanno voglia di lavorare non è un posto che ti trasmette l'energia per andare nella palacadestra o di giocarci e poi è sempre stato un football state lo Floyd più un posto di football americano lui è andato a Miami secondo me 50% ha influito la bellezza è quello che offre il sud della Florida tu che appunto lavori anche con i summer camp estivi queste cose qui quanto incide in questi summer camp la scelta della location cioè cercate volutamente luoghi dove non ci siano troppe distrazioni è impossibile chi è il cliente il cliente è il giocatore il giocatore paga il giocatore non vuole sicuramente andare a Oklahoma City e fare l'allenamento estivo dove vuole stare a Los Angeles Las Vegas Miami basta molti giocatori vivono per ragioni di tasse varie vivono o a Dallas o a Houston e anche lì ci sono diversi posti dove possono andare ad allenarsi diversi allenatori che fanno questo tipo di lavoro e possono anche trovare un pick up game da giocarci un contro 5 però altri posti insomma uno è in vacanza è giusto anche si rilassa uno magari ha una casa estiva ce l'avrà in un bel posto di solito Florida ripeto Florida molta gente non ha la mentalità di andare sono troppe distrazioni ma Las Vegas ce ne sono di più quindi insomma conta più la tua mentalità che il posto alla fine italiani in NBA oggi praticamente abbiamo tre italiani che partono titolari in altrettanti quintetti NBA 5 anni dopo sceglieresti ancora Bargnani come prima chiamata in un draft NBA no cioè io non l'avrei mai scelto neanche allora io in questo senso pensi che abbia inciso molto il fatto di avere un general manager italiano come Maurizio Gherardini beh guarda non voglio dire quello che penso qua però è stata una mossa diciamo un po' azzardata c'è stato un pacchetto c'è stato secondo me quando Brian Colangelo ha deciso di scegliere Bargnani ha assunto anche Maurizio Gherardini secondo me non è stato prendiamo Maurizio Gherardini che scegliamo scegliamo Bargnani secondo me è stato un po' un progetto è un'idea che avevano è stata una strategia che avevano da inizio ti confesso che guarda scegliere il numero uno un giocatore europeo è sempre un azzardo però quel draft era un buon draft c'erano sicuramente tra i quattro giocatori migliori di Bargnani ma Marcus Oldrich doveva essere la sceglia numero uno mi dispiace anche se Brandon Roy forse ha avuto più successo finora di solito si sceglie un lungo su un piccolo ma lui è un lungo vero Bargnani alla fine è un giocatore comunque è di base un grande tiratore non sono ancora convinto che sia un grande giocatore Bargnani Gallinari Bellinelli dove pensi che possono arrivare quanto margine di miglioramento hanno ancora? dipenderà da loro oggi giocano in quintetto nell'NBA che è già un traguardo incredibile io sono convinto che solo uno di questi abbia dimostrato di avere la mentalità per giocare costantemente ad alto livello e continuare a cercare una sfida nella sfida per migliorarsi questo è un giocatore che è stato fuori un anno già era un giocatore la prima cosa che scrisse io nel mio report quando lo seguivo anche se mi piaceva moltissimo era injury prone questo è un giocatore che al fisco è propenso all'infortunio infatti il primo anno dell'NBA non ha giocato praticamente cosa ha fatto in questo anno? poteva piangersi addosso o lavorare il doppio degli altri ha lavorato il doppio degli altri magari anche studiato si ha imparato anche il mondo americano il mondo NBA ma ricordiamoci che Danilo Gallinari è dato nell'NBA che era un discreto tiratore ma era un buonissimo giocatore lui è rimasto un buonissimo giocatore ma in quest'anno in quell'anno è stato fermo ha lavorato sul tiro ed è diventato un grandissimo tiratore anche questo secondo me è il fondamentale che lo sta rendendo un giocatore di vertice Beninelli è un altro giocatore che ha un grandissimo talento un grandissimo giocatore ha cambiato già tre squadre forse qui a Oclan scusate a New Orleans ha trovato la sua dimensione è un allenatore che lo valorizza ma soprattutto ha trovato il compagno di reparto che lo veramente lo valorizza ancora di più Quanta considerazione ha il basket italiano presso gli scout NBA ci sono oggi secondo te dei giovani in Italia con il potenziale per ambire una chiamata nel futuro o non lo so adesso è un po' presto adesso non si parla di qualcuno però è molto molto presto per parlare di NBA prima bisogna dimostrare qualcosa in Europa i giocatori che hanno fallito nell'NBA europei sono quelli che non avevano dimostrato niente qua in Europa Sair, Sene Korolev Schittish video non avevano mai giocato né dimostrato niente quelli che sono andati nell'NBA e hanno avuto successo avevano già si erano già fermati qua in Europa quindi trovare qualcuno vi lo spero un paio di anni finché c'è un giocatore italiano che mi faccia 30 minuti e 15-20 punti a partita 10 rimbalzi non so quindi diventi un giocatore che conta che sposta in tal senso si tende diciamo da scout a guardare più a quello che si fa in Eurolega secondo me no sicuramente l'Eurolega è una vetrina più importante c'è un livello di competizione maggiore sicuramente più facile valutare un giocatore in prospettiva NBA sicuramente però ci sono molti giocatori che non gioca fanno parte di una squadra di Eurolega ma non giocano in Eurolega e altri invece che giocano magari solo in un campionato del loro paese o fanno una coppa minore che invece giocano quindi l'importante non è che giochino così possiamo vederli poi dopo vediamo un po' Rodrigue Babois di Dallas è stato un giocatore che giocava a Cholet fece la finale di Eurocup insomma non giocava in Eurolega non era neanche pronto a giocare in Eurolega ti aspettavi che potesse avere un impatto del genere ti confesso che guarda lui quando lo vedevo giocare avevo qualche dubbio sul carattere perché comunque non è uno facilissimo a livello tecnico non era un grande tiratore però la cosa che io dicevo ma dicevano anche tanti altri era questo sarà un giocatore NBA migliore di quanto è un giocatore europeo l'altro giocatore con lui era De Collot che è un ottimo giocatore francese anche lui che invece era più magari più abile nel gioco europeo l'NBA farebbe molta fatica a mio parere però Babois veramente ha uno stile di gioco ha un atletismo tale che sicuramente insomma nell'NBA va molto meglio infatti l'abbiamo quasi scelto parlando invece di allenatori quanto secondo te dovremmo attendere prima di poter vedere eventualmente un italiano su una panchina NBA e chi potrebbe essere il più adatto Messina Pianigiani in questo momento i due allenatori conosciuti a livello internazionale sono Ettore Messina e Sergio Scariolo e Sandro Gamba però Sandro Gamba non l'alena più Simone ancora all'inizio della sua carriera ha fatto grandi cose però non è conosciuto a livello NBA gli altri due invece sì o per meriti o perché comunque tutti questi anni tra San Berlino conosciuto tante persone e sanno chi sono allenare l'NBA però non è per tutti noi siamo qua in Europa che critichiamo in modo di fare gli allenatori americani non è che poi allora possiamo andare di là e fare come vogliamo noi loro verremo criticati poi noi io non posso immaginare Ettore Messina allenare una squadra NBA non perché non è bravo anzi Dio che è overqualified cioè è sovraqualificato è troppo bravo per allenare l'NBA a mio parere e ha troppo poco tempo per allenare rispetto a quello da dedicare diciamo trasferte ma io sono convinto che Ettore Messina oggi sta ancora pensando alla partita di domenica che ha perso e nell'NBA finisce la partita a metà partita a metà terzo quarto già stai pensando dalla partita dopo perché insomma bene o male nella regola del season sai come sta andando la partita questa è una cosa che è inammissibile per un allenatore così dedicato al dettaglio e alla perfezione come Ettore ma anche Sergio e tanti altri allenatori europei Abradovici e tanti altri quindi andare di là Ettore per me ha dimostrato di essere il più grande allenatore del mondo quando cambiarono le regole ai 24 secondi i presi a Ginobili Iaric, Griffith cambiò completamente non completamente usano gli stessi principi che ha sempre avuto dalle giovanili però lasciò un po' più lasciò correre un po' di più il gioco un po' più veloce ha saputo rinnovarsi aveva una squadra di un certo talento sì ha saputo rinnovarsi secondo me se lui va nell'NBA ha l'intelligenza tale per rinnovare un po' il suo stile il suo gioco però nell'NBA lui ci va che dicono chi sei ma lui questo l'ha sempre detto gli americani i giocatori non sanno neanche chi sono gli allenatori che nel loro staff che hanno giocato nell'NBA figuriamoci che conoscono uno che non l'ha mai giocato e che allena in Europa che per loro è il terzo mondo quindi lui lui sicuramente ha tutte le capacità però insomma è talmente perfezionista è talmente bravo ad allenare una squadra di paracanestro che dovrebbe lasciar correre tanto 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 in questo senso quindi diciamo il giocatore medio NBA possiamo dire che abbia un po' scarsa cultura barra conoscenza non sanno niente ma i giocatori di oggi io vado quando vado a parlare ai camp o parlo con dei ragazzi anche che alleno non sanno niente di basketball history non sanno la storia io quando ero bambino che non c'era internet non c'era una partita la settimana in tv non c'era YouTube non c'erano le videocassette è anche abbastanza facile oggi conoscire la storia se la vuoi conoscere mi chiedevi a me quando avevo 8-9 anni chi era Jerry West chi era Will Chamberlain ma io sapevo tutti chi erano questi qui chi era Bill Russell Bob Coase li conoscevo tutti nonostante che si erano ritirati prima che io nascessi cioè oggigiorno chiede a un ragazzo che gioca a paracanestro nei unioris che ne so della fortità della Virtus chi era Bob McAdoo non lo sanno e questo è per me scandaloso perché quando tu ami una cosa e cerchi sempre nuove informazioni più ti inamori di quello che fai e alla fine insomma impari a conoscere la paracanestro meglio su tutti i fronti secondo te come mai questa mancanza di cultura non c'è rispetto del gioco ma noi avevamo avevamo poco forse vent'anni fa o trent'anni fa avevamo talmente poco cioè magari ci divertivamo anche di più però non avevamo tutte le distrazioni che avevano i ragazzi oggi e io sicuramente magari ero diverso dagli altri perché poi è diventato un po' è stata la mia preparazione al mio lavoro con questo amore che avevo per i basket anche per ma anche quando giocavo in serie B conoscevo tutti i giocatori della serie B perché mi piaceva era un po' mi piaceva analizzare i giocatori oggi i giocatori i ragazzi magari amano il basket però non sono innamorati al punto che vogliono dedicare tutto il loro tempo a questo che non dico che sia sbagliato però se vanno vedere una partita guardano la partita da tifoso non lo guardano per studiare finisce lì diciamo non c'è magari un interesse a dire questo giocatore viene da una determinata università ha fatto un percorso piuttosto che un altro mi ricordo un anno forse i miei primi anni ai Lakers Tex Winter iniziò il suo discorso classico per presentare il triangolo iniziò a chiedere delle domande ai giocatori alcuni nuovi alcuni vecchi ma gli altri di base interpellavano o le matricole o i giocatori che erano lì dei free agent che erano lì per il camp e ci andavamo a ridere facendo domande tipo quanto pesa la palla tutto quanto cosa è il diametro della palla il canestro quanto dista l'unica domanda che sapevano o le risposte che si pavano dire era l'altezza del canestro che è 10 piedi 3,05 questa è l'unica risposta che si pavano dare quanto era largo il campo quanto era lungo il campo tutto questo non è importantissimo però insomma sono cose devi sapere un po' devi conoscere una mancanza di conoscenza del genere che impatto aveva su un personaggio ma questo era il minimo questo era il minimo ma dopo si è passato a chi è il giocatore che ha fatto 100 punti nella scontata NBA qualcuno lo sapeva qualcuno no addirittura cioè quindi si parlava sai chi è non so poi il nostro staff chi esatto no addirittura si dice che Andrew Bynum non c'ero però si dice che abbia detto Will Takarino Durjabar esatto ma conosco altri episodi bellissimi giocatori che non so con Patrick Ewing quando allenavo a Houston gli hanno detto ma tu hai giocato mi insegni tutte queste cose ma non ti ho mai visto quindi c'è un po' di ignoranza generale che a me è una cosa che veramente mi dispiace perché a me piace io quando conosco un giocatore del passato che magari è stato il mio idolo di infanzia uno che mi piaceva parliamo per delle ore magari anche lui fa lo scout parliamo per delle ore mi piaceva vederti giocare poi ci sono talmente tanti personaggi coloriti diciamo dei personaggi che guarda ma ne parlano alcuni miei amici ogni tanto i giocatori che io vedevo in televisione con Dan Peterson quando faceva le telecroniche di cui nessuno parla né nell'NBA né qua in Europa che ci hanno fatto impazzire cioè Norm Nixon sono Gus Williams Jamal Wilkes giocatori incredibili sono stati adesso nessuno sa neanche chi sono a me piaceva vedere i giocatori non sempre vedere la stella è bello ma mi piace vedere il giocatore quello l'underdog quello che nessuno conosce che ce l'ha fatta per qualche motivo strano o che era il collante delle squadre vincenti Dennis Johnson giocatore di questo genere parlando sempre di Lakers tu lavori dal 2001 con i Los Angeles Lakers per cui hai vissuto a stretto contatto con due delle personalità più significative come Phil Jackson e Kobe Bryant dall'esterno il rapporto tra i due a volte sembra un po' controverso quali sono le differenze e le similitudini tra questi due personaggi incredibili? molto semplice vincere tutti e due vogliono vincere infatti dopo l'episodio del 2004 il libro di Phil Jackson ti dicono in realtà a me è quello un po' ma deluso cioè è stato veramente un payback è stato nei confronti di Kobe se lo sono guardato in faccia quell'estate del 2005 dopo il fallimento con Tom Johnowicz tutti due sono guardati e hanno detto io voglio vincere tu vuoi vincere cosa facciamo? proviamo a vincere di nuovo persone intelligenti mature sono state lasciate da parte dal loro competitive spirit il loro spirito competitivo e sono concentrati sull'obiettivo e non è stato facile non è stato facile immagino il personaggio di Phil Jackson coach zen diciamo veramente uno forse il più affascinante a livello di coaching oltre alla grande capacità psicologica di gestione del gruppo impressiona comunque sempre la calma e anche diciamo l'ironia la maniera di gestire il rapporto con i media penso alle interviste di fine primo quarto per dirne una ai tuoi occhi cos'è che lo rende sempre così tranquillo nonostante sia diciamo a livello di pressione sottoposta a delle pressioni incredibili cioè penso comunque ai tripit con Chicago con i Lakers sempre comunque l'obbligo di dover vincere come fa a mantenersi? hai proprio toccato un tasto la sua calma io in base io sono una persona isterica c'è un problema impazzesco poi dopo mi calmo stile Stan Van Gundy non potrei mai allenare mai questo è una persona perché io lo guardo ha una calma una tranquillità incredibile qualsiasi problema che ci sia i giocatori questo lo sentono è come un genitore che ha un bambino neonato se il genitore è calmo tranquillo il bambino poi sta tranquillo anche lui ma se il genitore è isterico il bambino lo sente e piange ancora di più ho notato innanzitutto bisogna parlare di tre cose di Phil Jackson uno la sua calma l'abbiamo detto l'altra la sua presenza fisica cioè è un uomo di due metri e quattro cioè è un uomo enorme ma una presenza enorme però è un po' un vichingo sì adesso può avere anche dei problemi alle anche alle ginocchia quindi cammina un po' storto così però è un uomo immenso e la terza cosa è la sua voce una voce pazzesca una voce proprio da doppiatore lui ti ti faccio un esempio Blake no Steve Blake nuovo giocatore per noi in training camp si sono parlati per mezz'ora Steve Blake non gli ha tolto gli occhi di Dostro non è che ha battuto il cinema ha una voce e una personalità magnetica nonostante il fatto che parli poco perché non è uno che parla che ti urla ogni tanto usa un sarcasmo per farti insomma inculcare le cose tratta tutto in modo un po' diverso non perché come tanti allenatori dicono l'americano non posso dire niente a questo qui non posso nessuno allenatore sa trattare tutti i cercatori uguali e lui lo fa in modo intelligente mi ricordo una volta credo nei primi anni che ero il primo anno che ero lì che Brian Shaw forse giocava ancora ma era già insomma nel processo di diventare magari uno scout o un allenatore come è diventato e la Duffin Jackson gli disse ma gli lasci correre tutte queste cose qua insomma esagerava Kobe con le sue cose con il suo carattere sempre perché era competitivo non tanto per mancare di rispetto Phil Jackson lo guarda e disse Kobe è un attack dog è un cane d'attacco se io gli smorzo la sua personalità non è più lui quindi lui sapeva come gestire un po' lui sapeva come gestire Shakir che se un giorno non si allenava andava bene lo stesso sapeva gestire Robert Tori sapeva gestire Derek Fisher ha sempre sempre ha sempre avuto il pregio di capire le persone e di sapere poi insomma interagire con loro rimanendo quindi su Kobe è evidente che diciamo sono quel genere di giocatori che si vedono una volta ogni tanto talento incredibile perché risulta così forte così vincente è solo una questione di talento di doti atletico o soprattutto un fatto mentale di attitudine mentale sicuramente cioè quello che lo separa pari a chi ha sono tanti giocatori di talento atletico pari a lui o superiori Ricky Davis Gerald Green come si chiama Tracy McGrady Vince Carter ma nessuno ha il suo drive la sua spinta la sua voglia di vincere di dimostrarsi è ossessionato dal dimostrare a tutti che lui è numero uno ma non in modo egoista secondo me adesso sono sicuramente sempre visto magari in quell'ottica lì è un grande realizzatore è chiaro che tira più degli asi è normale non è che faccia tirare i brocchi è uno che tira molto è un giocatore che si prende la responsabilità ma è un vincente è un giocatore che vuole vincere e poi come Jordan non è che faccia sempre il canale della vittoria ne sbaglia tanti ma ha il coraggio di prenderselo la cosa però che la gente sottovaluta si parla di un grande atleta si parla di una grande mentalità ma la cosa che nessuno capisce è che tecnicamente è il migliore giocatore NBA cioè non è che lui dice solo queste cose qua Jordan aveva un talento ma era anche molto costruito Kobe gli viene tutto più facile a livello Kobe ogni estate lui lavora su due o tre cose da pensare a due anni fa uno che gioca nel suo ruolo a dire chiamo a Kim allora perché voglio migliorare il mio gioco in post secondo me questo ti spiega tante cose esatto ma è più che a lui adesso in questo momento è il miglior giocatore spalla canestro dell'NBA e gioca da guardia ogni cosa che fa lui adesso lui si mette a spalla ha fatto un canestro l'altra sera è arrivato uno contro uno faccia a faccia si è girato arresta un tempo ha scelto il perno pazzesco giro contro il canestro all'ultimo secondo del primo quarto mi sembra l'anno scorso che vanno in luocchi fece un clinic di footwork di piedi sempre ricevendo spalla canestro una volta si è affacciato girandosi di giro dorsale tiro la volta dopo con l'altro piede finta un palleggio ha fatto 4-5 soluzioni diverse da un fondamentale e non c'è nessun giocatore dell'NBA né lungo né piccolo che sappia fare questo quindi lui è un grandissimo lavoratore sui dettagli sui fondamentali quindi ripeto lui è il giocatore più sottovalutato a livello tecnico forse della storia dell'NBA perché è veramente completo sa fare tutto che è un po' a mio avviso ad esempio quando si parla di Lebron James la fase del post mi sembra quella dove lui non ha sviluppato quanto forse avrebbe dovuto e Lebron anche come tiratore è un giocatore che ha tanti piccoli difettucci nel tiro forse li vedo solo io perché sono ossessionato a vedere queste cose però ha tanti difettucci nel tiro al di là del fatto che faccia canestro no ha tante cose che potrebbe mettere a posto dopo quando hai quel fisico lì adesso poi la gente non si rende conto quando fanno i paragone Jordan Kobe Jordan e Kobe va bene ma Lebron è la custodia di questi altri due cioè è più simile a Dwight Howard fisicamente sì no c'è troppa differenza a livello fisico è più grosso più forte più veloce più esplosivo tutto tutto in più di questi giocatori qua l'unica cosa che forse non ha è proprio la mentalità che dicevamo questo spirito competitivo Lebron l'avrei voluto vedere io giocare in post basso dire adesso adesso Dwight Howard che ci sta massacrando lo marco io fisicamente ma che sono quasi uguali ci voglio andare io a fare questo lo vorrei vedere un po' più polivalente sa fare tante cose un ottimo passatore sicuramente un passatore migliore di Kobe più bravo come playmakeraggio però non ha non ha secondo me faccio fatica a pensare che d'estate lui dedichi tutto il suo tempo andare magari ad elaborare con un large one sul post basso ecco ma secondo te sai in questo quanto può aver inciso il fatto di essere passato direttamente aver fatto il salto dalla high school ai professionisti parecchio sulla mentalità di Kobe no parlando di Lebron che non abbia sviluppato troppe distrazioni troppe distrazioni Kobe comunque è sempre superstar fin da ragazzino è in the spotlight è sempre sotto i riflettori Kobe non è mai sotto i riflettori Kobe non esce non è la vita solita non è la vita più all star concorre a creare una situazione vincente ma serve una chimica che si costruisce con il tempo e con l'affiattamento Roberto lo sa bene perché è stato il collante di tre franchisi vincenti tre l'unico segretario della storia penso quindi lui lo sa meglio degli altri tutta la decision del grande Lebron è stato uno degli episodi più tristi a mio parere l'ho visto in diretta ed ero a Miami quindi sapevo anche cosa stava succedendo è stato uno degli episodi più tristi per me della storia della Panacalestro veramente una cosa imbarazzante che poi lui abbia deciso di andare a giocare lì sembra che nessun problema quello uno può fare il modo con una squadra che ha fatto tutto per lui e per la sua famiglia lo hanno aiutato in migliaia di modi l'hanno accolto come un figlio hanno costruito una squadra per non ci chiaro non stiamo parlando di una squadra che era lontana dal titolo una squadra che era la migliore squadra dell'NBA nella stagione regolare per tre anni di fila non lo so sono altri anche in finale sono arrivati hanno perso perché non hanno giocato bene o perché mancava un pezzo ma erano già pronti per vincere Miami forse non è pronta oggi come era pronta Cleveland un anno fa o due anni fa la scelta di avere tre on-star insieme perché no secondo me può funzionare benissimo però i tre on-star non te lo vincono l'anello l'anello te lo vincono Udonis Haslam te lo vincono Mike Miller Mario Chalmers questi sono i giocatori secondo me quelli che saranno quelli decisivi se loro giocano bene loro avranno speranza per il titolo se giocano bene solo i tre fenomeni e gli altri no o vengono alienati gli altri non siano importanti sarà un problema la somma dei talenti individuali non è necessariamente uguale al risultato finale no è per questo che comunque Boston rimane oggi una squadra migliore è una squadra vera Miami secondo me è una buonissima squadra per me può vincere il titolo ti dico per me può vincere però ci vuole il tempo di solito anche se vincono magari vincono uno poi non vincono più per qualche anno loro prima o poi vinceranno e vinceranno tanto bisogna vedere quando sarà pensando all'estate 2012 mi vengono in mente tre grossissimi nomi che saranno da free agency penso Dwight Howard Chris Paul da Aaron Williams pensi che cambieranno tutti maglia ingolositi dalla tentazione di approdare in franchigie più blasonate o città più importanti a me dispiace vedere che un giocatore franchigia vada a giocare da un'altra parte mi è dispiaciuto quando Olajuwon finì la carriera a Toronto Patrick Young andò via da New York non mi piace vedere queste cose mi piacerebbe vedere un giocatore a cui è stato dato tanto che lui rimanga fedele però se la squadra non è competitiva non è da titolo è difficile volersi rimanere oggi Orlando è ancora competitiva per il titolo secondo me il giocatore che è destinato a muoversi lì è sicuramente Chris Paul il padrone precedente non voleva spendere la squadra ha cambiato città avanti e indietro tragedia chiaramente con il problema della città con tutto il disastro dell'Uragano lui è il miglior playmaker dell'NBA lo vede su un grande palco scenico adesso addirittura non hanno neanche un padrone quindi forse loro non fanno scambio non fanno niente l'NBA adesso è in possesso sì che è una cosa che non vogliono neanche entrare solo nell'NBA poteva succedere sì l'hanno fatto perché comunque il padrone precedente Shin aveva molti nemici ed era molto difficile dialogare con lui credo non era facile vendere la franchigia l'NBA l'ha presa adesso la venderanno a chi lavora o chi avrà insomma un progetto serio Jerry Sloan non ce l'abbiamo più in NBA secondo te è effettivamente dovuto a un fatto di stanchezza mancanza di energia e non aveva più voglia di allenare lui o come dicono alcune malelingue anche Karl Malone forse c'era effettivamente un rapporto inclinato con Deron Williams è vero come dice Malone che oggi c'è meno rispetto da parte dei giocatori nei confronti del coaching staff sicuramente questo io parlo con i ragazzi chi è il tuo allenatore ma non capisce niente io i miei allenatori magari ci litigavo però dicevo che erano bravi oggi giorno il primo ragazzo che magari tocca la palla da basso che dava il mio allenatore non mi piace mi fa giocare non mi capisce hai detto che stanchezza cos'erano i motivi in teoria lui ha detto ha dichiarato non ho più energie per allenare non ha più energie non ha più stanchezza di allenare magari quei due o tre giocatori che gli stanno causando dei problemi da quello che ho capito è uno io non penso che lui cioè tu credi che lo rivedremo su un'altra panchina no assolutamente no è stato diciamo l'esempio perfetto di continuità uno dei pochi pochi esempi nell'NBA è stato uno dei più grossi allenatori di sempre ha sempre fatto poche cose ma fate bene molto semplice diciamo che se non fosse stato per l'unica stagione dove ci fu un tentativo di cambiare sistema questo sarebbe andato ai playoff in tutte le sue stagioni tutti gli anni in un piccolo mercato perché Utah è un piccolo mercato sotto Lake City ha fatto veramente bene io non ero lì non so se ha litigato però il fatto che l'assistente si sia dimesso anche lui è la dimostrazione che qualcosa è successo quindi non è la sua stanchezza così perché diceva sono stanchi di allenare no è stesso qualcosa a mio parere e quello che immagino è che magari lui ha voluto disciplinare un giocatore la società non l'ha spalleggiato grazie me ne vado ci vuole del coraggio perché comunque si è pagato un sacco di soldi lui ha avuto il coraggio di farlo secondo me l'assistente non è voluto rimanere perché voleva essere fedele all'allenatore se fosse stata solo stanchezza l'assistente non si sarebbe mai dimesso ed è un ottimo assistente Phil Johnson quindi diciamo un po' come il discorso di Mike Brown che se ne va da Cleveland e anche Danny Ferry prende altre direzioni si a me piace questa fedeltà cioè io spero di essere fedele sempre a quelli che mi hanno voluto ecco quindi diciamo il tuo modo di vedere la parte diciamo allenatori general manager dovrebbe esserci più coesione tra sì adesso non penso che fosse un problema non è sempre il problema di general manager spesso è il problema del ownership più che management cioè dei padroni e ricordiamoci che il padrone di Utah Larry Miller è morto un anno e mezzo fa credo adesso i figli sono più coinvolti però non so se questo è stato il motivo però sicuramente magari qualcosa è cambiato quando il tuo il tuo il punto di riferimento è sempre la stessa persona poi tutto in un tratto cambia tutto in un tratto anche cambiano un po' le tutti i principi di gestione insomma potrebbe essere cambiato qualcosa veramente parlando di Sloan possiamo fare delle comparazioni con Doug Collins nel senso dopo un periodo abbiamo visto quest'anno a Filadelfia dopo un periodo di difficoltà iniziale dove non è andato proprio tutto molto bene cosa magari è anche comprensibile visto il cambiamento d'allenatore che ha vari cambiamenti nel roster sembra aver fatto un po' trovato un po' la quadratura del cerchio riuscendo a dare un impronto a una squadra che sembrava destinata a una stagione da lottery invece grande sorpresa può ambire anche a un vinto posto e sono partiti malissimo forse uno su dieci parecchio male Doug Collins è stato per anni ha avuto migliaia di offerte però lavorando in televisione molto bravo come analista e guadagnando molto bene per farlo ha sempre rifiutato le panchine che gli venivano offerte subito Atalanta gli ha fatto un'offerta credo che anche Lugersi gli ha parlato lui ha accettato Filadelfia ha deciso che è il momento di tornare a allenare lui ha giocato tanti anni a Filadelfia forse per lui lo vedeva come una missione per salvare la prima scelta di Filadelfia si giocatore del 72 delle Olimpiadi un giocatore che dice sempre un giocatore un personaggio che dice sempre always a winner never a champion perché ha fatto parte di tanti episodi sempre un vincente ma è un grandissimo giocatore ha fatto parte della medaglia d'argento del 72 poi si fece male decise di ritirarsi l'anno prima che i Filadelfia vissero il titolo dell'83 insomma il suo tempismo nelle cose poi la cosa più lavorosa che insomma uscì da Chicago che l'anno dopo iniziarono la carriera di Phil Jackson iniziò con diciamo il licenziamento di destini incrociati come si suolviene esatto quindi è sempre stato un po' sfortunato il suo destino l'NBA di oggi è cambiata di parecchio rispetto al passato forse in maniera radicale un tempo diciamo comunque i giocatori di college erano più portati a rimanere 4 anni all'università più padronanza dei fondamentali più maturità e maggior predisposizione all'approccio professionistico oggi ci sono tanti talenti che finiscono parlando del recente passato si finiva a malapena l'high school oppure come adesso un anno veloce al college e poi via subito tra i professionisti quali sono gli aspetti che hanno un po' diciamo affossato questa crescita tecnica e la programmazione un po' l'abbiamo toccato prima ecco il discorso economico sì sicuramente voglio dire come fai a dire a un ragazzo di 18 anni che viene magari anche dal ghetto dalla povertà cresciuto da un genitore con tre fratelli come fai a dirgli vai all'università a prendere una bella educazione magari ti lauri e poi dopo pensi a guadagnare dei soldi insomma io non lo farei tu lo faresti non lo so è facile dire io preferisco andare all'università maturare come persona e poi dopo penserò alla mia carriera c'è stile bisognerebbe sempre diciamo valutare un po' la condizione sociale da dove uno proviene certo e pensare anche comunque che se ti spacchi un ginocchio insomma il tuo futuro non è così rosa come poteva essere prima è difficile il problema è che molti ragazzi hanno consiglieri pessimi pessimi che sono ignoranti non conoscono la realtà e anche l'accesso ai giocatori così giovani da parte di agenti o di persone che lavorano per gli agenti diventa veramente una cosa complicata perché vai a dire a un ragazzo guarda firma con me dichiariamoci per il draft anche se hai avuto una stagione mediocre primo anno di college quello che è ti assicuro che ci sono tre squadre che ti scelgono in lotteria e poi alla fine magari non vieni scelto al primo giro quindi non hai soldi garantiti vai alla Summer League in estate fai una cavolata tutto pompato finisci in D-League non giochi neanche la tua carriera dopo due o tre anni giochi in A2 da noi è già successo tutto questo è successo tante volte quindi è un grosso rischio a livello umano però a livello economico per dare quella tranquillità e dare un po' di supporto un po' di aiuto in caso forse è obbligato a farlo in questo senso il famoso rookie orientation aiuta un po' grande idea bellissimo due anni fa rookie orientation tre giocatori ma cacciati via perché è beccati in camera a fumare della marijuana con tre ragazzi parliamo di Chalmers sì Chalmers Darrell Arthur e il grande Michael Bisley quindi non lo so lì è stato è stato anche credo camuffato qualcosa non ho nascosto anche quello che è successo veramente ma anche se fosse solo una cavolata non è importante fai questa cosa devi comportarti bene per tre giorni impegnati un po' di più l'idea è buona soprattutto per gli europei è buona però secondo me già prima di questo prima che ci arrivi l'inviare a farlo io noi Lakers ti scegliamo siamo noi che siamo i responsabili adesso per educarti deve educarti noi capirti cosa ci aspettiamo da te le regole che sbagliano prendono la medicina sbagliata per il doping sono errori che lo fanno perché non sanno aspetta la franchigia allo staff medico tecnico manageriale insomma educarli e farli crescere stessa cosa franchigia italiana però perché prendiamo gli americani giovani e ci lamentiamo che non sono attaccati la maglia che non sanno niente non sanno giocare sono egoisti pensano a se stessi ma se io prendo un giocatore ci penso io a educarlo mi ci vorrà del tempo però lo educo io parlando sempre di oggetti di culto NBA io personalmente rimango sempre affascinato ogni anno di più da Paul Millsap un giocatore partito con grandi doti atletiche grande impegno poche cose a livello tecnico ma ogni anno sempre in grado di aggiungere nuove cose al suo gioco quest'anno addirittura una partita incredibile contro Miami due triple quattordici punti neanche il tempo di un possesso quanto è raro trovare un giocatore del genere oggi? quasi tutti i padroni sono andati dai loro general manager tutti i general manager dai loro scout a dire ricordatevi che dato l'esempio ci ha lasciato scappare Paul Millsap ma come si fa a fare un errore del genere lasciarlo slittare al secondo giro stessa cosa con Boozer però Boozer c'era un problema un po' fisico non era un gran atleta era un po' cicciona ha perso tanti chili un po' undersized per l'NBA alla fine comunque ha anche lavorato molto per migliorare le sue lacune invece Millsap obiettivamente era sempre buono ma nessuno sapeva quanto fosse il sistema di Utah fosse i compagni però alla fine lui era diventato un giocatore più valoroso ai jazz di Carlos Boozer che è un giocatore da 20 e 10 ed è un all star quindi secondo me e anche i compagni insomma preferivano giocare con Millsap che è un giocatore che ha veramente una capacità di giocare sia a spalle a canestro che faccia a canestro esplosivo forte viene a giocare tutte le sere he comes to play every night gioca duro tutte le sere è stata veramente una sorpresa forse la conference dove giocava non lo so cos'è stato il motivo sicuramente è stato sottovalutato in modo imbarazzante questo incide spesso nelle scelte cioè si tende a guardare la Big East la Big Ten SEC secondo me è importante secondo me è importante il livello di competizione perché come da noi dire gioca in Finlandia e gioca in Eurolega cioè contro chi ha giocato cioè Rubio ha giocato contro i signori dei signori giocatori è stato testato Dirk Nowitz è stato veramente un azzardo Dirk Nowitz non era stato testato dalla B2 tedesca esatto ma come ti viene in mente di andare a scegliere una B2 tedesca io ho visto delle partite io faccio 20 punti a partita adesso in quel campionato dove giocare l'ho vista le partite di quei livelli sono scandalosi quindi lui è stato veramente l'unica vera sorpresa ma è solo fortuna quando uno indovina una chiamata del genere per me è un po' di fortuna ricordarci una cosa che un giocatore cioè non è è bello pensare che siamo tutti dei geni a scegliere il giocatore giusto ma devi prendere quello che c'è rimasto certo cioè non è che a volte guardano le nostre scelte che bene o male abbiamo sempre scelto Benino c'è sempre stato qualcuno magari che dice eh potevamo scegliere lui questo succederà sempre per me che non scegli numero uno cioè mi ricordo anche quando mi ha scelto non so Vujicic mi ha scelto Vujicic perché era il migliore on the board di quelli rimasti era il migliore abbiamo scelto Brian Cook forse un errorino perché c'è stato un grosso errore perché c'è stato Josh Howard scelto dopo insomma è stato un errore però cercavamo un lungo però non possiamo neanche essere una scelta sbagliata è il miglior giocatore che c'era in quel momento sulla lavagna quindi bisogna avere un po' di fortuna se ti casca qualcuno a noi Mark Gasol ci è cascato in mano io volevo scegliere il primo giro figurati ma a volte secondo qualcuno paradossalmente è più facile fare una buona scelta scegliendo magari al secondo giro e tardi piuttosto che dover andare a scegliere non so tra la 15 e la 20 c'è più pressione perché non puoi sbagliare se tu sbagli se tu sbagli una seconda scelta chi se ne frega anche perché dopo due anni non se ne ricorda più nessuno se lo firmi poi è che non firmarlo se tu sbagli una prima scelta ce l'hai per tre anni o forse quattro addirittura e quindi magari primo anno è giovane dici secondo anno ha fatto vedere qualcosa gli diamo l'estensione cioè facciamo valere la sua option e ce l'hai per quattro anni ma è un bel dramma diventa se tu sbagli quella scelta lì certo che a volte se ne vedono come mili che uno dice ma lì è stato veramente il momento proprio della febbre europea che si guardava l'Europa come per dire ecco la nostra soluzione per migliorare il ballungo europeo ma la verità è che i giocatori da guardare in Europa a mio parere lo dico che fosse contro i miei interessi non sono i giocatori del draft solo ma sono i free agent o giocatori che sono già stati scelti che hanno più di 22 anni cioè i Scola e i Ginobili hanno già 24-25 anni sono andati insomma volendo si poteva fare provare a prenderli non è che San Antonio era convinto che Ginobili fosse il fenomeno la stessa cosa con Scola ma anche non so Nozioni Nozioni non fu scelto fu preso come free agent nell'NBA quindi secondo me il vero talento è trovare giocatori nascosti o in D-League CBA Europa trovare giocatori già pronti per giocare Gary Neal è stato l'esempio dell'anno Gary Neal è stato il giocatore dell'anno tagliato addirittura alla Benetton è un giocatore che a me piaceva molto per il nostro sistema andava bene però obiettivamente lo vediamo giocare sempre male quando venivano i miei cap giocare male non ci siamo andati dietro e poi ci serviva un playmaker a noi non ci serviva una guardia però quello è veramente l'abilità delle squadre trovare delle perle che veramente i famosi diamond in the rough come si suol dire esatto sono di tanti giocatori che hanno giocato in Europa che alla fine sono andati a giocare nell'NBA Ibaka per esempio penso Ibaka fu una scelta veramente incredibile che dissero dissero la gente addirittura dice guarda che lui non viene deve giocare in Europa non viene è inutile che perdiate tempo a sceglierlo a me piaceva da matti obiettivamente avevamo sapevamo già che non sarebbe ci sarebbe stato credo che noi avessimo il 28 quel anno non mi ricordo ma sapevamo che non ci sarebbe stato peccato nell'anno passaggio da Rucchi a Sofomo ha fatto dei miglioramenti assurdi è un giocatore che giocava in Europa e faceva poco perché le sue abilità erano più era già un giocatore di stampo NBA atletico correva faceva delle cose proprio a livello dinamico incredibile per un giocatore di due metri però io la prima partita che ho visto di quest'anno dei Thunder quando ho visto mettere due tre piazzati dai sei metri ho detto ma questo è quello dell'anno scorso ha sempre avuto una buona mano ma non ha mai avuto una grande costanza nel tiro lui in mani le ha buone però ha un feeling per stoppare per correre è incredibile però è un ragazzo perso anche lui non spera niente io l'ho conosciuto era un bravissimo ragazzo però non spera anche dove era l'America probabilmente però guarda lì è stato veramente bravo Oklahoma City a crederci investire su di lui e fargli trovare un ambiente familiare dove poteva crescere chi è che ti dà l'opportunità di crescere e non tutte le franchigie hanno né il tempo né il contorno per farlo tante tante piccole cose tante piccole cose come l'infortunio prima cosa saper gestire la malattia perché comunque è una malattia che comunque devi essere veramente responsabile devi sapere un po' devi trovare una certa regolarità nelle cure e tutto però l'infortunio è stato l'inizio della fine per lui e in più ha perso completamente fiducia in se stesso e sai quando non fai canestro quando non giochi non è facile nel dubbio ha guadagnato un sacco di soldi sia dall'Adidas che dall'NBA però a priori non è stata una gran scelta anche se lui rimaneva sano se giocava adesso faceva una discreta carriera lo stesso al numero 3 è stata una scelta azzardata Michael Jordan grandissimo giocatore forse il più grande di tutti i tempi personaggio sicuramente di un certo tipo come manager è negato se siamo in Italia posso dire in America non lo potrei dire è un manager negato se si chiamava Filippi lo licenziavano dopo due minuti allora ha scelto Kwame Brown numero 1 nel draft del 2001 Kwame Brown è forse il peggior giocatore di Paracanesco mai visto in Italia considerando il fisico qualche anno dopo si rimette a fare il general manager e prende Adam Morris numero 3 dicendo che è un nuovo Reggie Miller che insomma si calciavano sotto il tavolo i scout dei Bobcats da quello che so poi altre scelte che non stavano neanche rincare quindi lui è uno dei tanti Reggie Miller non ha chiesto i danni non ha chiesto i danni ma sembra che gli chiederà più che altro l'Adidas poveretto è un bravo ragazzo un buon giocatore secondo me può ancora dire la sua da qualche parte però non sta giocando da nessuna parte è stato considerato che dopo un 10 day contract da qualcuno ho letto ma non so da chi era e mi dispiace perché comunque quando uno si fa male così giovane che già ha un fisico di un certo tipo è difficile nel dubbio ripeto per fortuna sua ha guadagnato tanti tanti soldi per non giocare parlando di infortuni mi viene in mente il più brutto forse mai visto Sean Livingston giocatore al mio modo di vedere da un talento incredibile con le debite proporzioni poteva ricordare Magic Johnson è molto bello rivederlo in campo adesso sembra un giocatore ripreso potrebbe essere un buon backup anche in una squadra da titolo dove non lo so in realtà non l'ho mai più visto giocare infortunio al ginocchio chiaramente è un infortunio poi lui ha caduto proprio osso a zero cartilagine ha caduto rimasto due osse rotula tendine gli hanno gli hanno fatto tutti i trattamenti quello che c'era è saltato esatto tutti i trattamenti possibili tutti i dottori hanno dovuto veramente provarle tutte per cercare di trovare una cura per lui lui evidentemente ha avuto veramente il cuore la dedizione di non darla su e cercare di ritrovare una carriera nel mondo della paracanea questo poteva benissimo smettere perché i soldi comunque ne ha presi quarta scelta quindi ha preso per almeno 4 anni ha preso dei buoni soldini non l'ho visto giocare mi piacerebbe faccio il tipo per lui faccio sempre io ho avuto un infortunio al ginocchio drammatico che comunque non che sarei andato a giocare nell'NBA o nazionale però sicuramente avrei fatto cose migliori quindi so cosa vuol dire la rieducazione ma mentalmente veramente ti toglie tante energie e ti deprime molto parlando di preparazione tu in passato hai lavorato anche con Sean Williams diciamo un po' un oggetto di culto nei suoi primi anni ai Pacers relegato ai margini anche per problemi extra cestistici oggi riscoperto dai D'Antoni dove non è costretto a avere troppi impegni in fase difensiva mi vorrebbe da dire un po' come il resto della squadra è capace di ritagliarsi un ruolo di ala che esce dalla panchina comunque con punti nelle mani percentuali al tiro da tre pazzesche tu che l'hai visto da vicino hai avuto opportunità di lavorarci cosa pensi che sia scattato guarda ti racconto un episodio perché è stato veramente è stato l'estate forse 2007 forse ero a Las Vegas a lavorare sono diversi giocatori uno dei giocatori diciamo abbastanza famoso per andare a Las Vegas a lavorare che era a casa lì è Al Harrington Al Harrington si è portato dietro il suo pupillo il suo pupillo era Sean Williams avevano giocato insieme a Indiana era un po' il fratellone Sean Williams è uscito a 18 anni ghetto di Memphis di tutto pochi sanno che Sean Williams ha giocato con Mark Gasol quando erano liceali nell'AAU e li vedi anche giocare Mark Gasol pesava tipo 80 kg in più e Sean Williams era già un gran talento comunque la faccio un po' più in breve Sean si allenava lì giocava lì sapevo già un po' della sua reputazione ma un giorno lo alleno super sto qua un ragazzo eccezionale ascolta tutto si allena bene ha tecnica molto buona è un giocatore non direi un 3 e mezzo ma un 3 e un quarto insomma è un po' 4 un po' 3 però è un giocatore sicuramente faccia canestro è un buonissimo tiro insomma mi era piaciuto molto ma alla sera mi disse guarda che domani viene Lester Conner assistente di Indiana a vederlo mi raccomando facciamo un buon allenamento facciamo vedere cosa stiamo facendo con lui un allenamento strepitoso quindi mi sentivo un po' sotto pressione anch'io che volevo fare bella figura e poi insomma anche con il giocatore il giocatore fece una figura pazzesca l'allenatore contentissimo dopo parliamo diciamo che lui va molto seguito anche oggi non ha fatto colazione non aveva metodo insomma non aveva professionalità non sapeva un po' alla sera usciva tutte le sere a Las Vegas figuriamoci beh fece questo allenamento incredibile rimasi in contatto con l'allenatore non si vede più scomparve dopo che andò via l'allenatore questo proprio scomparve dopo 5 giorni arrestato per non so che cose macchia con un amico droga qui droga qui pistola nel cruscotto cioè tutte le cose possibili insomma mi rimasi dispiaciuto perché insomma vedevo e tutti mi dicevano guarda che è un bravo ragazzo questo il problema è insomma quello che lo circondava le amicizie appunto Donnie Walsh che lo scelse a Indiana gli do l'ultima chance a New York o elimini queste persone della tua vita o tu vieni tagliato il giorno stesso guardando diciamo alla prossima stagione ormai è già da un anno che si parla del nuovo contratto collettivo non ancora siglato è reale secondo te il rischio di lockout per la prossima stagione? sicuramente sicuramente nel 98 ci fu il primo lockout e da lì era stato nessuno sapeva cosa aspettasse la verità è che avrebbero dovuto cancellare tutta la stagione perché ci fu una stagione corta piena di infortuni un training camp di 10 giorni tutti si presentarono a sovrappeso fu una stagione da incubo fu un periodo che io entrai nell'NBA quindi me lo ricordo bene adesso si sa cosa aspettarsi ma prima lo sciopero era dei giocatori adesso lo sciopero e dei padroni che giustamente insomma loro hanno investito tanti soldi è un business calano io perché devo continuare a pagare esatto loro hanno anche un po' di ragione spererei insomma anche per me per il mio lavoro che non ci sia però bisogna ragionarci bene qui con questa cosa e adesso è uscita la notizia che in teoria la players association dice bene lo sciopero stavolta dei padroni quindi i contratti non valgono più i giocatori possono andare a giocare in Europa quindi questo metterà secondo me un po' più pressione sui padroni a trovare una soluzione l'ideale sarebbe trovare una soluzione che gli incassi vadano 50-50 50-50 tutti contenti adesso è 40 verso i padroni 60 verso Kobe in Italia però non lo vediamo ma questa guarda faccio fatica veramente a pensare che uno possa venire magari perché Gallinari ha detto ah però se torna lui allora anch'io si e chi li paga questo problema più grosso è quello e poi aspetta e se si fanno male diventerebbe veramente una folle e poi magari ce l'hai un giocatore per tre partite non so perché poi non si sa mai secondo me la stagione inizia magari in ritardo però inizia io spero che inizi puntuale magari un training camp un po' più breve ma che a settembre trovino un accordo per me prima non lo trovano che a chiuderebbe che a chiuderebbe un po' più breve